Che città Bologna? I colli dove Dalla scorazzava Indocati Scrambler, molto, ma molto prima di Cremonini. E poi là, il Conservatorio G.B. Martini, Mozart, Rossini. E guarda lì, il bunker del Blasco. Lì abitava Curreri, lì la Cirenaica di Guccini, l'Università del Movimento degli Schiantos, e poi... e poi io mi trovo qui. Invitata da una band borderline già nel nome, Alzheimer Rock Band. Un gruppo di anzianotti percorsi da un pericoloso delirio di onnipotenza. E così dopo i Feb 4, gli U2, anche ARB, ARB in italiano. A questo punto direi 0-0 in concerto sul tetto. Speriamo che non si buttino. O no. Speriamo che non si buttino. Ah, tornate? No, è vero! Tiene la media! No, ma dai, ma non si buttino! Mi viene da... Ecco un po' l'abbraccio. Grazie, cara! Siete pronti? Siamo pronti, come dire 1, 2, 3, 4 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 Siamo pronti, come dire 1, 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 4 Siamo pronti, come dire 1, 3, 4 Siamo pronti, come dire 1, 3, 4 Siamo pronti, come dire 1, 4 Andiamo puoi, andiamo puoi Andiamo puoi Andiamo, andiamo puoi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.